Come Comune abbiamo dato vita, e questo era uno degli obiettivi all'interno del nostro regolamento, di una consulta. Siedono una cinquantina di associazioni che si occupano di questo tema, sia perché è oggetto principale delle loro attività, ma anche perché hanno sposato voi per delle battaglie di cittadinanza, di legalità, ma anche le associazioni stesse che tutelano gli interessi degli operatori economici e privati nella nostra città. Dalla consulta è lì il luogo entro il quale abbiamo dato vita delle campagne di sensibilizzazione a dei momenti di cittadinanza attiva che sono molto frequenti, che sono proprio dei flash mob legati però alla scelta di un bar che per esempio non è videopoker. Il mondo della scuola è un riferimento importantissimo. Esiste una rete di istituti scolastici, non soltanto però secondo i superiori, ma anche delle scuole medie in rete con la consulta che affrontano soprattutto quando i ragazzi non hanno ancora 16 anni questo tipo di dinamica.